Io pensavo mi steste trollando e invece effettivamente che cos'è? Cavalry proprio? Ok, possiamo provarla subito allora. Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbooks e bentornati nel mio canale. Oggi sono di nuovo qui su Totally Ecco Red Battle Simulator perché nello scorso episodio mi avete chiesto di provare una cosa che ancora non ho provato. Ovvero il Da Vinci Tank in prima persona. Direi di iniziare con il carro armato senza potenziamenti, senza niente, contro un po' di unità a caso per vedere come se la cava per poi passare alla versione potenziata con le cheerleader. Quindi prendo il controllo di questo carro armato e in prima persona non si vede nulla. Devo schiacciare spazio, lui comincia a sparare e girare, sparare e girare. Ok, possiamo vederlo in varie angolazioni. Occhio, occhio, mi devo spostare. Occhio, stanno arrivando, stanno arrivando. Carica, 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 mi stanno distruggendo, mi stanno distruggendo. Carica, carica, ok, li ho distrutti. Io praticamente sono stato Da Vinci tutto questo tempo. Adesso proviamo subito a potenziarlo con le cheerleader e vedere se riusciamo ad utilizzarlo o se diventa abbastanza ingestibile come credo che succederà. Però contro andiamo ad aggiungere anche un po' di altra gente tipo qualche monaco, qui così, un paio di samurai, uno o due opliti, un paio di sarissa e un paio di scudi. E davanti ci mettiamo un halfling. Vediamo se basta per distruggere tutte queste unità. Ricordatevi che lo sto utilizzando io. Mi dice spazio. Io premo spazio. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ah, è vero che divento un tornado? È vero che divento un tornado con le cheerleader? No, non è gestibilissima sta cosa. Mi stanno anche distruggendo. Non ci credo. Pensavo di essere immortale con questo. Invece no, guarda. Mi stanno togliendo tutta la vita. Non vedo niente. Non capisco niente. Non so dove... Ah, mi hanno distrutto. Aspetta, facciamolo giocare un attimo da solo perché voglio capire se effettivamente è meglio rispetto a quando lo utilizzo io oppure no. Ok, mi sta venendo il dubbio che forse ero io che lo stavo usando sbagliato. E no, è perché anche in questo caso ha buttato giù tutti ma non ha ancora vinto la battaglia ed è stato distrutto adesso. Quindi uno da solo non ce l'ha fatta. Beh, se uno da solo non ce l'ha fatta, l'unica cosa che possiamo fare è metterne una quintale. Tra l'altro uno è anche glitchato all'inizio. Ok, guardate quanti. Non so se tutti diventeranno dei tornadi perché non ho messo abbastanza cheerleader. Però guardate quanti UFO ci sono. Lo so che sono dei carri armati, dei Da Vinci e non sono degli UFO. Però effettivamente ci assomigliano a degli UFO. Adesso voglio vedere se effettivamente sono più forti e veloci questi qua che fanno i duelli. Quindi ne mettiamo una decina circa contro i moschettieri che li colpiscono dalla distanza. Vediamo se fanno in tempo a distruggerli tutti. Cerchiamo di arrivare più o meno allo stesso valore. Direi che così va bene. Facciamo partire la battaglia. Vediamo se... Oddio, li hanno quasi uccisi tutti però si stanno avvicinando. Loro devono ricaricare. Non so se fanno in tempo a ricaricare prima che li distruggano tutti. Però nel dubbio noi ci gustiamo questa bella battaglia. Oh, ma mi è arrivato addosso quello lì. Ne sono rimasti solo due. Uno è senza cavallo. Come fa senza cavallo? Non può fare quasi nulla. No, dai, però l'ha investito. Ha investito il suo collega. Ma poi come muovono le gambe questi cavalli? Hanno delle articolazioni sbagliatissime. Cioè, guarda. Adesso voglio fare un duello in prima persona di un fencer contro un altro fencer. Per vedere effettivamente... Oiii. Allora, Angord. Ahia, è stato più bravo di me. E voglio la rivincita. Devo capire ancora bene tutte le abilità di queste. Allora, left mouse button. Ho vinto. E lui ha fatto la dub. Era un po' che non facevano la dub. Adesso voglio fare un mega esercito di pittori a quadrato. Contro un mega esercito di pittori a cerchio. Giusto per curiosità. Quadrato contro cerchio. Facciamo partire la battaglia. Vediamo se vince la formazione quadrata o la formazione cerchiosa. In realtà non è che mantengono la formazione una volta dentro alla battaglia. Però vedo che due gruppi si sono formati e i rossi stanno leggermente vincendo. Anzi, direi che hanno proprio vinto. L'ultimo se ne sta andando. Aspetta, lo prendo io l'ultimo. Lo prendo io l'ultimo e me ne vado. Lo prendo io l'ultimo. Ah, mi hanno colpito alle spalle. Ma scusate, il Painter, no? Che lo stiamo un po' trascurando. Con le Cheerleader, che cosa diventerebbe? Perché a sto punto mi chiedo anche questo. Vediamo un po' cosa diventerebbe con tutte queste Cheerleader. E magari mettiamolo contro... Voglio vedere se ottiene dei poteri speciali oppure diventa semplicemente più veloce. Eh, credo che... Ok, mi spiace. Non è avuto modo di splendere. Magari mettiamolo contro qualche Fencer, così, a caso. E vediamo se effettivamente riesce a fare qualcosa con le Cheerleader. Con l'aiuto delle Cheerleader, oppure no. Ok, no. Non è molto utile contro di loro. Vediamo quanti Squire può battere il Fencer potenziato dalle Cheerleader. Quindi adesso mettiamo uno Squire, due Squire, tre Squire, quattro Squire, cinque, sei, sette, otto, nove. Dieci Squire. Vediamo se dieci Squire li riesce a battere un solo Fencer, oppure no. È già caduto a terra. È impazzito. Secondo me funziona meglio senza le Cheer... No, guarda, guarda, come è veloce. È straveloce. Occhio però... Non è bastato essere così veloce per distruggere tutte queste unità. Poveri Cheerleader. Stanno soffrendo. Sono lì. Aiutateci. Aiutateci. Possiamo solo esultare. Noi non abbiamo armi. Aiuto. E niente, nessuno si è affacciato dalla finestra per dare un'occhiata e dare una mano eventuale. Ma il Ballooner riesce a prendere unità grosse anche tipo il Mammut? Oppure no? E se ci riesce però è meglio che ne metta di più perché sicuramente uno da solo verrebbe schiacciato dal Mammut. Invece se ne metto vari forse fanno in tempo a prenderlo. Ma non so se sono abbastanza forti per farlo salire proprio... Non l'hanno preso. Uno l'ha preso. Guarda, no, non è riuscito a tirarlo su. No, perché muoiono sembrerebbe. Guarda, guarda, gli si sono attaccati. L'hanno ribaltato. Eh, però dopo un po' lo mollano. Quindi forse ce ne servono di più. Guarda questi. Sono morti con il pallone rostatico ancora aperto. Anche quello. E niente. Il Mammut ha vinto però. Possiamo aumentare il numero di Ballooner e vedere se effettivamente riescono a farlo volare via oppure no. Sono curioso di vedere sta cosa. Se muoiono tutti non facciamo in tempo a scoprirlo. Guarda, uno si è attaccato. Un altro si è attaccato. Guarda quanti si sono attaccati. Lo stanno alzando. Lo stanno alzando. Oddio, oddio. Guarda quanti ce ne sono. Sì, però non gli fanno danno. Adesso devono tirargli i pugni. Ma basteranno i pugni secondo voi? Secondo me, no. Però potrei sbagliarmi. Signor Mammut, eh. Vuole essere controllato. Ma sì, controlliamolo noi. Guarda, gli mancano... Gli manca ancora metà vita. E non capisco chi sia rimasto in vita. Effettivamente. Ah, eccoli di qua. Guarda, l'ho preso. L'ho preso. Manca questo, forse. Chi è che è ancora vivo in realtà? C'è qualcuno in cielo, in vita? No, dov'è? Scusatemi. Sento i versi. Ah, eccolo, è incastrato lì nell'angolo. Ma che fa, signore? Che ci fa qui nell'angolo? Venga con me per cortesia. Ecco fatto. Ma siccome i Mace Spinner diventano tornati con le cheerleader, no? È più forte il tornado di Da Vinci o il tornado dei Mace Spinner? Per correttezza metterò solo un caro armato per il momento contro a quattro Mace Spinner. Perché il caro armato vale addirittura 4.000. Quindi se ne dovessi metterne di più sarebbe molto ingiusto. Facciamo partire la battaglia. Vediamo quale dei due tornadi è più potente in questo caso. Eh, però, se li distrugge prima di diventare un tornado, non so se vale. Non sono ancora diventati un tornado loro. Non hanno fatto il tempo a diventare un tornado. E sono stati risucchiati tutti. Uno è diventato un tornado. Tornado contro tornado. Oh mio Dio, ha vinto il tornado dei Mace Spinner? Ha vinto il tornado dei Mace Spinner? Beh, io non credo che abbia vinto il tornado dei Mace Spinner perché è più forte. Semplicemente questo qui era da solo e stava perdendo vita. Mentre loro stavano ancora diventando tornadi. Ovviamente ragazzi, continuate a consigliarmi delle battaglie nei commenti. E mano a mano che vado avanti con i video, prenderò in considerazione alcune di quelle battaglie. Per metterle in un eventuale futuro episodio. Voi nel dubbio lasciatele le battaglie. Poi, quello che succederà, succederà. I jouster con le cheerleader possono fare qualcosa di particolare. O anche loro sono un po' buttati lì a caso. Per esempio, contro vari Vlad, riuscirebbero a farcela. O Vlad, visto che ha il bastone lungo, l'impala. E loro non fanno in tempo a fare nulla. Hanno tutti e due un'arma di lunghezza notevole. Però, guarda, lo sta potenziando. Non so se diventa solo più veloce. O ottiene anche qualcos'altro. Cavoli, aspettate. No, mi sa che hanno vinto i Vlad. Dai, hanno vinto i Vlad. Però, ragazzi, finita questa battaglia, devo andare a controllare una cosa che mi state ripetendo negli ultimi episodi di Totally Echo Red Battle Simulator. Ovvero che c'è un'altra unità segreta nella mappa medievale. Adesso andiamo a vedere. In questa mappa dovrebbe esserci un'arma segreta qui per sbloccare un'unità segreta. Eccola. Però noi questa unità segreta l'abbiamo già provata in un video precedente. Quindi, se intendevate il Chuconu, io ce l'avevo già sbloccato e ci ho fatto un video, effettivamente. Però voi mi avete detto che ce n'è una anche nella mappa medievale. Però non siete stati specifici su quale. Quindi devo fare una piccola ricerca. Sono entrato nella mappa medievale 2 perché mi avete detto che, appunto, c'è... Uh, aspetta, ma è il pollo? Ma perché hanno messo un pollo qua? Forse vogliono reintrodurre senza le mod, ma proprio come unità ufficiale, l'uomo dei polli? Chicken Man? E il Chicken Man Man? Non lo so. Aspetta... Uh, ma qua c'è un altro pollo. Ok. No, non è questo che volevo cercare. Dovrebbe essere proprio in cima qui. Eccola. È questa. Effettivamente non l'avevo sbloccata. Io pensavo mi steste trollando, invece, effettivamente, che cos'è? Cavalry proprio? Ok. Possiamo provarla subito, allora. Siamo in questa mappa. Dovremmo avercela adesso. Il Chukonu è qui. Ve lo faccio vedere velocemente. Quello che spara con la balestra. Questi colpi così grossi. Che però ha un suono diverso rispetto a prima. Non fa più tipo... Fa più il rumore di una balestra, effettivamente. Il che ha più senso. Riuscirà a ricaricare abbastanza veloce per farli fuori tutti? No, mi sa che arrivano e i Jester lo faranno fuori. Però avete capito bene o male che unità è. L'unità che ancora non ho approvato è la Cavalry. Che era stata introdotta in gioco senza il cavallo. Perché ancora non era stato programmato a modo. Ma adesso che c'è? Possiamo vedere effettivamente che cosa fanno. Oh, fanno proprio i duelli. E niente. Poi combattono perché i cavalli sono morti. No, aspetta. È ancora sul cavallo quello. Non è morto. Pensavo fosse caduto. Ok, mi sembra una lotta un po' impari. Visto che uno ha il cavallo e l'altro gli è morto. Però questo cavallo è un po' strano. Guarda come piega. Wow, wow, wow. È stato colpito. Ma guardate la zampa del cavallo. Che articolazioni strane che ha. Però sono curioso di provarlo contro... All'altra unità, il jouster. Quello che lo fa proprio di mestiere il duello. Vediamo quale delle due è più forte. Ha vinto il jouster. Magari è stata solo fortuna. Riproviamo. Ok, stavolta sembra che sia in vantaggio di nuovo il jouster. Perché il cavallo del cavalry è morto. Ed effettivamente l'ha tirato giù. Quindi sembrerebbe migliore il cavalry. Proviamo a vedere se effettivamente c'è una funzionalità segreta. Con l'uso delle cheerleader. Oppure no. Però dai, dai, bustatelo. Bustatelo. Guarda, guarda. Aumenta forse la velocità? È quello che cambia? Eh sì, cambia solo la velocità. E va bene ragazzi. Io direi che per questo video è effettivamente tutto. Se volete un altro episodio di Total Econ Red Battle Simulator. Lasciate un bel like in questo momento. E ditemelo nei commenti. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciaoone.